buongiorno raga ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video è stato presentato il gire d'italia 2019 ufficialmente oggi presso gli studi rai di milano un giro d'italia davvero durissimo 3516 chilometri con ben tre cronometro e due arrivi in salita ragazzi c'è tanta tanta carne al fuoco è davvero un giro d'italia durissimo che partirà da bologna per arrivare fino all'arena di verona ragazzi ci sono diverse salite storiche come il gavio il mortirolo gavia che sarà la cima coppi mentre la cima pantani sarà il il mortirolo insomma comunque sarà un giro d'italia durissimo mortirolo che verrà scavato dal dalla parte più dura quindi insomma ancora più carne al fuoco ben tre cronometri quindi appunto un percorso che potrebbe appunto anche essere appetibile per bravi anche cronomen quest'anno non ci sarà dom domulen dopo comunque il secondo posto di quest'anno e il primo posto di del 2017 però potrebbe far comodo per esempio a primos roglic qualora volesse lo sloveno appunto confrontarsi anche con la realtà del giro d'italia quando da quando ha effettuato la metamorfosi a grande corridore probabilmente ci saranno anche i libari e frum frum sta pensando di tornare al giro d'italia comunque perché è rimasto molto impressionato l'anno scorso dalla dalla corsa rosa potrebbe esserci anche vincenzo nibari che la sua presenza praticamente è sicura infatti vincenzo nibari tenterà il tris potrebbe essere proprio una sfida che sfruma ancora non sappiamo invece fabio aario che cosa farà in ogni caso ci sono le dolomiti ci sono le alpi c'è il monte bianco c'è il passaggio all'acqua da dieci anni del terremoto del giro d'italia che ha voluto rendere omaggio poi si passerà dalla qualità storica comunque per la sua letteratura da vinci da fucecchio e da pesaro e poi anche il passaggio da filtri a tapponi dolomitici dove ci sarà filtri a cruci down l'ultima tappa è davvero durissima sul proprio sul sul percorso della della gran fondo della sport full la prima del tre cronometri appunto di fuga anche quella da riccione a san marino dove insomma davvero non ci sarà da scherzare in tanti ragazzi qua c'è petardi a volontà per per halloween che io non faccio non festeggi ragazzi halloween perché lasciamo perdere comunque chiusa parentesi appunto ci sarà questa cronometra molto dura oltre alla cronometra inaugurale di san luca che sarà davvero durissima quella di bologna insomma sarà un giro di italia con sette arrivi in salita quindi ragazzi è tanta tanta carne al fuoco davvero non sarà un giro d'italia molto molto duro non forse duro come quest'anno però tanto 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 duro dove scalatori puri anche la possono fare da padrone questa corsa oltre comunque ci potrebbe essere aleandro valverde dovrebbe esserci oltre a petersa che potrebbe appunto tornare dopo tanti anni al giro d'italia e voi ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo programma delle giri di questo di questo percorso del giro d'italia secondo me davvero davvero un gran bel percorso iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate condividete questo video e noi ragazzi con il sottofondo dei petardi ci vediamo ad un prossimo video ciao Grazie a tutti.